Ben trovati amici alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è martedì 18 ottobre 2022 e si festeggia come vediamo nell'almanacco il santo del giorno San Luca Evangelista, insomma un pilastro della chiesa, uno dei quattro evangelisti, medico fu convertito da San Paolo, nacque ad Antiochia ma poi seguì l'apostolo in tutte le sue peregrinazioni dall'Asia Minore verso Roma. San Luca divenne uno dei discepoli prediletti di San Paolo, fautore del Terzo Vangelo in lingua greca, evangelizzò la Macedonia, la Dalmazia, l'Italia e la Gallia, scrisse anche gli Atti degli Apostoli. Le sue reliquie sono costudite dopo aver riposato per lungo tempo a Costantinopoli, ora si trovano nella Basilica di Santa Giustina a Padova, a Venezia abbiamo San Marco, ebbene a Padova abbiamo San Luca e questa insomma è una curiosità che molti forse non conoscono. Veniamo anche alle previsioni del tempo, salutiamo San Luca e vediamo la grafica delle previsioni atmosferiche e vediamo che il tempo si mantiene stabile su tutte le marche con un cielo prevalentemente sereno salvo nelle valli apenniniche dove ci sarà qualche foschia durante la mattinata, durante appunto la prima parte della giornata. Le temperature si aggirano tra i 15 e i 25 gradi e come dico ancora da tempo, ormai da molti giorni, le temperature sono ancora miti, per questo autunno i venti spireranno sulle coste da una direzione di ovest e sud-ovest, mentre nell'interno da est e nord-est e le temperature dovrebbero essere in calo, in realtà non lo sono, i mari, il mare si mantiene poco mosso. Apriamo ora le pagine a partire dal Corriere Adriatico, questa mattina vediamo l'apertura su Fano dove vediamo che si festeggia il 25esimo anniversario della Facoltà di Biotecnologie che appartiene alla sede decentrata della Università di Ulbino a Fano, a Palazzo San Michele. Un consolidato polo scientifico intitola oggi il Corriere Adriatico. Università e Comune celebreranno l'anniversario in teatro, nel Teatro della Fortuna, il 28 ottobre prossimo, con un bilancio dei risultati. L'iniziativa è stata esposta ieri dal Preside Mauro Magnani, dal Sindaco Massimo Seri e poi abbiamo avuto anche il Presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola. Insomma sono gli enti, abbiamo anche il Presidente della BCC di Fano, uno degli sponsor di Fano Ateneo, sono i maggiori protagonisti che tengono in vita questa importante istituzione nella città di Fano. Istituzione non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista ricettivo perché sono molti gli studenti che giungendo da tutta Italia soggiornano nella città di Fano. Il Ministero ha posto un limite di 75 studenti, comunque l'Università lo ha ampliato fino a 100, tante sono le richieste di frequentare questa università, questa facoltà che mantiene il passo con i tempi. L'Ateneo Urbinate si prepara dunque a celebrare i 25 anni del corso di laurea triennale in Biotecnologie, istituito nel 1996, allora era situato nella Codma, nell'edificio centrale del Codma. Poi lì gli laboratori, le aule sono risultate insufficienti e quindi grazie alla fondazione è stato trasferito appunto a Palazzo San Michele. E vediamo qua un appello di una signora che ci giunge da Colli al Metauro. La mia casa andrà presto all'asta, sono ferita e umiliata, aiutatemi. Disperata la madre di due figlie minori che ha ricevuto lo sfratto dalla sua abitazione di Calcinelli. La donna che chiede aiuto alle istituzioni affinché possa venire a capo di un problema che ormai rischia di arrivare a un punto di non ritorno. E quando si rischia di perdere la casa si perde non solo i muri, insomma è quello che c'è dentro, si perde tutto un bagaglio di affetti, di sensazioni, di emozioni, di ricordi che minano poi l'animo e forse instaurano la depressione. Insomma è un problema e se qualcuno può aiutare questa donna lo faccia, lo faccia presto. Pum Track, la pista più bella del centro Italia. È una nuova realizzazione che si appresta a fare l'amministrazione comunale di Fano nella zona dell'aeroporto. Una pista per ciclo amatori, coloro che amano andare in bicicletta, nelle ciclo bike, insomma delle biciclette un po' speciali, che possono così superare le curve, andare sui dossi, sulle buche, insomma fare delle evoluzioni. Un circuito per acrobazie vere e proprie in bicicletta. Il progetto è stato presentato ieri e comporterà un finanziamento di 250 mila euro e già nella prossima primavera potrebbe essere inaugurato. Dunque una nuova realizzazione in più di cui il sindaco Massimo Seri ovviamente è andato fiero. In 300 all'ultima corsa della stagione. Questo articolo di Spalla, lo vediamo qui, ci riporta all'organizzazione del trofeo Lamberto Tonelli, che si è svolto domenica scorsa in un circuito cittadino con una partecipazione di centinaia di podisti che hanno corso per tutte le vie della città, di tutte le età, dai bambini, dai ragazzi alle persone adulte. Insomma è stata una vera bella festa dello sport, quella di domenica scorsa. Qua invece abbiamo una presa di posizione di Fratelli d'Italia che è tornata sul problema degli asili nido, già affrontato da Lucia Tarsi nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Questa volta è la segretaria del partito che evidenzia come affano gli asili nido e le scuole materne costano di più rispetto ai comuni dell'entroterra, come per esempio Cartoceto e Mondolfo. In realtà non è così, dice l'assessore Mascarin, perché per esempio le scuole materne sono del tutto gratuite, mentre gli asili nido sono a pagamento, ma sono a pagamento per fasce di reddito, per fasce di Ise e c'è anche una fascia, quella più povera, che pone il servizio gratuito. Sono 33 le fasce Ise che vengono modulate appunto secondo le tariffe che sono in vigore. Comunque i servizi educativi, ha detto Mascarin, stanno provando a rimodulare la tabella al fine di rendere lo strumento più equo e aderente ai bisogni delle famiglie. Per l'ente locale comunque c'è un'entrata soltanto di 553 mila euro quando solo le spese per il personale ammontano a quasi 2 milioni. Quindi sono molti le risorse che il Comune impegna per assicurare questo servizio essenziale, soprattutto per le famiglie giovani dove entrambi i genitori lavorano ed eventualmente non saprebbero, non hanno una tutela parentale, quindi hanno bisogno di un servizio per sistemare i bambini piccoli. Passiamo a Pergola. A Pergola si fa la conta dei danni dopo le recenti alluvioni. Vengono definite inagibili 47 abitazioni, 39 sono ancora gli sfollati che non possono rientrare nelle loro case, 4 milioni occorrono per riparare solo le fognature. La sindaca Guidarelli elenca i danni, due ponti sono prossimi alla riapertura. 39 persone sono ancora sfollate, insomma non sono poche, 47 abitazioni inagibili, oltre 4 milioni di euro per interventi di ripristino del sistema fognario. Sono questi alcuni numeri dell'alluvione che ha gravemente colpito il territorio di Pergola. A fare il punto, Simona Guidarelli, tanto si è fatto, tanto c'è da fare, ha detto. Ci sono cantieri aperti e ditte che lavorano lungo il fiume e che continueranno a farlo, sia per conto del Comune che di altri enti, come il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica. Tutti coloro che possono avere un po' di competenza per ripristinare un minimo di vita normale, lo debbono fare e lo debbono fare in fretta. Giriamo ancora la pagina, siamo a Senigallia. Panzini in vetrina in 800 dal mondo si presenta una nuova iniziativa. Ha debuttato ieri a Senigallia la 35esima edizione dell'Annual Conference Forum dell'innovazione della biodiversità e della ripartenza che l'alberghiero Panzini, grazie alla tenacia anche del Preside Alessandro Impoco, è riuscito a portare a Senigallia. Sarà una settimana di show cooking, si parla di cucina ovviamente, di conferenze con chef stellati. È una vetrina internazionale di cui la città aveva proprio bisogno dopo quello che è accaduto. Insomma anche questa è un'iniziativa per risorgere, per fare promozione e per cercare di alleviare i pensieri che molti cittadini di Senigallia ancora hanno per il ritorno a una vita normale. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro sulle Corriere Adriatico. Ieri c'è stata un'intesa tra la Regione e il Sindaco Ricci per quanto riguarda il nuovo ospedale. I lavori inizieranno nel 2024 e speriamo che questa volta sia la volta buona. Costerà 170 milioni ed è il più grosso investimento che la Regione si appresta a fare in edilizia ospedaliera nella Regione stessa. È stato firmato l'accordo di programma tra Regione Comune, ASU e Marche Nord. Previsti 400 posti letto, smobilitazione dei servizi da muraglia entro due anni. Si comincerà dunque a fare i primi trasferimenti e qua in questa tabella abbiamo le tappe della Regione verso il nuovo ospedale di Pesaro, un ospedale che ormai si attende da decenni e se ne parlava per la prima volta addirittura negli anni 90 e ancora deve venire alla luce. Speriamo che questa volta sia la volta buona. Catabrighe, Via e New Jersey, lungo la statale tre rotatorie, resta il nodo della copertura finanziaria di competenza della Regione. Per la viabilità di Catabrighe queste nuove rotatorie sono essenziali per la sicurezza del traffico di attraversamento ma anche per la sicurezza dei residenti che devono percorrere tutti i giorni quelle strade. Opere compensative invece Via Libera a Pesaro per l'abbattimento di 138 alberi. L'autorizzazione è giunta dall'Asper per gli interventi sia sull'Urbinate sia a Santa Veneranda e a Santa Maria della Fabrice. 138 alberi da abbattere non sono pochi e quindi sono gli ambientalisti che cominciano a insorgere per protestare. Nel pacchetto c'è anche la bretella di muraglia con 22 piante, 17 in un'area e 5 in un'altra da tagliare. Bisogna fare di necessità virtù secondo l'amministrazione comunale ma ovviamente sono decisioni sempre contestate queste. Infatti vediamo nell'articolo di fondopagina querce sacrificate parte l'esposto di Lega Ambiente. Subito un batti e ribatti automatico. La settimana corta bocciata dai presidi lezioni in pomeriggio sarebbe il caos. I dirigenti scolastici sollecitano un vertice con la provincia sul problema delle bollette impazzite. Insomma tutti no alla DAD, alla didattica a distanza. Anche la festa del sabato non viene molto accettata con entusiasmo e bisogna trovare una soluzione perché in fin di conti ora le bollette costano tanto anche per le istituzioni, per la provincia, per il comune e per la regione. Nessuno ci ha consultato, dicono appunto i dirigenti scolastici, in via Gramsci decisioni avulse dalle reali esigenze. Da tempo i presidi attendono un incontro con il presidente Paolini per dire da loro e per cercare un accordo sul modo di risparmiare l'energia elettrica. Il comune di Vallefoglia decide tagliare le spese del 50%. Ucchielli non va per il sottile. I risparmi energetici non bastano a compensare gli aumenti e da qualche parte bisogna tagliare la torta. La crisi energetica fa tremare anche le casse comunali di Vallefoglia e se non si riceveranno presto i concreti invocati aiuti dallo Stato, che cosa succede? I prossimi mesi risulteranno molto difficili e ci si vorrà sicuramente trovare in forte difficoltà. Questo è un po' l'insunto dell'articolo che appare questa mattina. E poi abbiamo la vicenda degli insulti social contro il sindaco Matteo Ricci, che si stanno discutendo in tribunale. Si attende la sentenza, ma il magistrato, prima di pronunciare la sentenza, vuole l'imputato davanti al primo cittadino e il giudice chiama il sindaco in aula. Messaggi diffamatori contro il sindaco di Pesaro e questo è un po' il reato che si contesta. Ieri, davanti al giudice monocratico, erano fissate le repliche e la sentenza nei confronti di un 51enne, un cittadino 51enne, accusato di diffamazione per una serie di frasi poste su Facebook contro Ricci. Ma invece della sentenza il sindaco ha chiesto un nuovo confronto. E poi c'è una presa di posizione della opposizione per il sottopassaggio di Via della Vittoria. La rambla sulla statale, afferma il centrodestra, è solo una follia di Ricci da 5 milioni, uno spreco di soldi pubblici in un periodo difficile. Questo è il commento della opposizione in Consiglio Comunale. Cerossini conquista la finalissima del premio ambientalista dell'anno. È la prima comunità energetica delle Marche. Si contende il titolo con altri otto progetti italiani. E vediamo anche la pagina di Urbino. Ci sono stipendi di serie A e di serie B con l'uso delle cooperative dei medici. Gammarotta e Moretti del sindacato Cimo segnalano l'impoverimento degli ospedali di area vasta. E mentre a Pesaro si fa l'accordo per il nuovo ospedale, insomma c'è ancora un problema da risolvere nella città ducale. Vediamo anche il resto del Carlino. L'apertura è dedicata anche qui al venticinquesimo anno di biotecnologie. 25 anni di successi ovviamente, perché non solo c'è stata un'intensa attività didattica compiuta dai docenti della università, ma anche un'intensa attività laboratoriale, ovvero di ricerca. Si sono raggiunti lusiglieri i risultati. Vedremo poi la relazione, il consuntivo, che il preside Magnani esporrà durante l'incontro del prossimo 28 ottobre al Teatro della Fortuna alle ore 17. Venerdì 28 ottobre. E qua abbiamo invece un caso che è finito in tribunale. Una preside accusa un professore, maltrattava gli studenti. È accaduto al liceo Torelli di Fano. Un professore è stato accusato prima dalle famiglie, poi anche dalla stessa preside, di avere maltrattato gli studenti, di aversi rivolto a loro con espressioni non certo così normali. E quindi ora ne deve rispondere nei confronti del giudice. Il docente è ricorso al giudice del lavoro, definendosi mobilizzato dalla preside, accusa esclusa però dal giudice, il quale ha annullato la censura perché non poteva infliggerla la preside, ma il contenuto delle accuse le ha confermate. Dunque ha annullato il giudice la censura, però insomma la ragione per cui la censura è stata fatta è stata confermata. Quindi c'è questa sottigliezza. Comunque il contenuto delle accuse confermate sarà oggetto di una prossima udienza il 27 febbraio prossimo. Insomma è una vicenda questa che ha sollevato della sensazione per la notorietà appunto del professore. Ed ecco il pump track. Tutto salti ed emozioni. Bella questa fotografia che evidenzia. È un rendering che viene così realizzato. Ancora ovviamente non c'è, c'è solo il terreno brullo all'aeroporto che dovrà poi essere sistemato in questo modo. Vediamo la pista con curve, dossi, buche eccetera. Divertimento per coloro che amano andare in maniera acrobatica in bicicletta. Il percorso è di 630 metri, di cui 354 in asfalto. L'altra metà sarà in terra battuta. Una pista con dossi e paraboliche per mountain bike. L'impianto dovrebbe essere pronto, come detto, per la prossima primavera. E poi vediamo come a Colli al Metauro si rievoca anche sul resto del Carlino la vicenda della mamma che rischia di essere sfrattata dalla propria abitazione. Ecco il titolo. Caterina sfrattata con due figlie piccole è la storia di una ragazza madre di Calcinelli plurilaureata, Bidella, a tempo determinato che il 4 novembre rischia di finire in strada. Non ha un reddito per concorrere all'asta a cui è stata messa appunto la propria abitazione e rischia appunto di essere estromessa per sempre. Il costo dell'immobile è di 55 mila euro. Chiede aiuto a chi può fare qualcosa per lei. Il CODMA cambia pelle. La regione ha mantenuto le sue promesse e ieri l'assessore alle infrastrutture Baldelli, Francesco Baldelli, è stato al CODMA per annunciare l'asfaltatura di tutta l'area che fa parte appunto della centrale ortofrutticola del medio adriatico. Questa un po' è la sigla del CODMA. L'assessore regionale parla del superamento del degrado e non è un'importante struttura della città. Questa anche Fano TV, ieri sera ha fatto un servizio dando spazio anche al presidente della protezione civile, Saverio Ulivi, che ha segnalato, che ha evidenziato come il CODMA sia veramente una risorsa, una ricchezza per la città di Fano. Vediamo anche altre notizie sul resto del calino. Orciano, rotatoria strategica, costerà mezzo milione di euro. Eccolo il titolo. Il sindaco Sebastianelli dice abbiamo chiesto alla regione un cofinanziamento. I motivi aumenteranno la sicurezza di tanti pedoni e sostituiremo il vecchio spartitraffico. Questo è il rendering della nuova rotatoria progettata ad Orciano. Vedete come dà molto spazio all'incrocio, dove confluiscono diverse vie ora in sicurezza rispetto appunto al passato, quando si realizzerà appunto il progetto. La procedura per la realizzazione della maxirotatoria sul lato mare di Orciano, di cui si è cominciato a parlare già all'inizio di quest'anno, ha fatto ora un importante passo avanti e nei primissimi mesi del 2023 sarà fatta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Quindi una infrastruttura bella e utile per Orciano. Mondavio, Girolamo, Martini è l'opposizione che guarda avanti. Il capogruppo, la maggioranza, respinge quasi sempre le nostre proposte, ma non esiteremo a volere un paese migliore. è un articolo di carattere politico, questo che è a fondo pagina della pagina 21 del resto del Carlino, e parla di 21 mozioni, 7 interrogazioni e 3 interpellanze, a cui poi si aggiungono la conferenza col Ministro Giovannini e l'intervento del capogruppo alla manifestazione a Fano, no biodigestore, ve la ricordate, quel corteo che è stato fatto di protesta per sensibilizzare anche la classe politica fanese a dire no al biodigestore. È un po' un consentivo dell'azione politica che si fa a Mondavio e tutto quello che si fa in un paese crea riflessi anche sul territorio circostante. Quindi non è detto che interessi soltanto quella località. Ecco perché qualche volta le prese di posizione debordano giustamente e creano un allaccio, un rapporto con le altre amministrazioni. A Urbino, Sgarbi diventerà ministro? Punto interrogativo. Il sindaco Gambini dice lo spero. Il prosindaco di Urbino è sempre più spesso accreditato nella lista che Giorgia Meloni proporrà al presidente Sergio Mattarella. Ormai i giochi sono quasi fatti. Il giovedì dovrebbe essere dato il primo incarico ed ora c'è questa presa di posizione del sindaco Gambini che spinge affinché Vittorio Sgarbi possa diventare ministro. E con Vittorio Sgarbi ministro, probabilmente alla cultura, anche Urbino verrà valorizzata perché il rapporto tra Sgarbi e Urbino è molto stretto. E quindi anche la città ducale potrebbe averne dei vantaggi. Credetimi, Macerata, Feltria, anche questa località è ricca di risorse. Lo ha detto il sindaco Luciano Arcangeli che replica ad un cittadino che aveva sottolineato gli aspetti negativi di decadenza del comune. È un botta e risposta che il sindaco fa elencando le risorse di Macerata, Feltria, una località che è pre-appenninica, possiamo dirle, è molto molto vicina al Carpegna, a Villa Grande, insomma, una zona molto molto interessante dal punto di vista ambientale, ma anche delle risorse storiche importanti, appunto, Macerata, Feltria. E siamo ormai vicini alla conclusione. Diamo anche qualche notizia sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino. Vediamo l'apertura dedicata al nuovo ospedale. Ecco i numeri e la road map. a muraglia 400 posti letto entro il 2027. E qua vediamo il momento della filma tra il presidente della regione Acquaroli e il sindaco Matteo Ricci. Entro il 31 dicembre 2022 ci sarà l'avvio del bando per il concorso della progettazione. Entro il 30 settembre 2023 ci sarà la progettazione definitiva e sempre nella stessa data l'avvio del bando gara appalto integrato. Entro il 30 settembre del 2024 ci sarà la consegna del progetto esecutivo ed entro il 31 dicembre cioè la fine non del 2023 ma dell'anno successivo dovrebbero iniziare i lavori. La fine è il 2027. Entro il 31 dicembre questo è il crono programma di questa nuova grande struttura di 400 posti letto che dovrebbe insomma dare più valore e più funzionalità diciamo così alle cure per l'assistenza sanitaria territoriale. E qui vediamo appunto il momento culminante della firma. Rambla a spese folli per progetti faraonici è un po' la posizione del centro-destra l'abbiamo riferita contro gli oltre 100 mila euro destinati appunto alla progettazione al momento ma sono 5 milioni la cifra l'importo necessario per realizzare i lavori e poi il porta a porta ai giorni contati intanto gli ispettori fanno i tutor si parla di raccolta di rifiuti in questo articolo al via due iniziative a Pesaro per supportare i cittadini coinvolti nel passaggio operatori di marche multiservizi si sposteranno tra le isole ecologiche per vedere se appunto c'è correttezza oppure ci sarà un comportamento disinvolto e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno a occhio alla notizia il TG di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 questo è tutto per il momento a risentirci di Fano TG di Fano TG Grazie a tutti.